All'angorosso da Roma, Daniele Buscetto Petrucci! Il Ring Promotion presenta una super esibizione sulla distanza di tre rounds, coordina nel ring Claudio De Camillis, già arbitro internazionale Daiba, già arbitro olimpico plurimondiale dove è stato eletto miglior arbitro nell'edizione 2005 svoltasi in Cina, Claudio De Camillis! E poi, signore e signori, presentiamo all'anno blu, il pantaloncini rosso-bianchi, con un record da professionista formato da 37 incontri disputati, 33 vittorie per lui, 12 delle quali per K.O., 2 sono escrofitti, 2 i miei pari, già campione del Mediterraneo I.B.F., Già campione d'Italia, già campione dell'Unione Europea, già campione intercontinentale W.B.A., 7 volte campione d'Europa! Già campione dell'Unione Europea, già campione dell'Unione Europea, da Firenze, per l'Accademia Puginistica Fiorentina, dove è stato seguito in tutti i suoi incontri dal maestro Sandro Boncinelli, e con un record da professionista formato da 33 incontri disputati. 30 vittorie per lui, 10 delle quali per K.O., una sconfitta e due vali. Già campione mondiale junior I.B.F., già campione d'Italia, già campione dell'Unione Europea, già campione intercontinentale W.B.F., già campione internazionale I.B.F., già campione intercontinentale I.B.F., già due volte spinate alla titolo d'Europa dei mesi in Valter, da Roma e per la box Roma San Basilio, dove è stato seguito in tutta la carriera dal grande maestro Carlo Macci. Signore e signori, Daniele Buscetto Petrushini! Signore e signori, Daniele Buscetto Petrushini! Signore e signori, FeldKA, cenori e signori tracking delle autorità punta per il soft inteiro Comune colored Grazie a tutti 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 Grazie a tutti